Oggi vi presento la crostata con cettina. Mentre la pasta frolla riposa in frigo prepariamo il ripieno. Mentre la pasta frolla riposa in frigo prepariamo il ripieno. Mentre la pasta frolla riposa in frigo prepariamo il ripieno. Mentre la pasta frolla riposa in frigo prepariamo il ripieno. Mentre la pasta frolla riposa in frigo prepariamo il ripieno. Mentre la pasta frolla riposa in frigo prepariamo il ripieno. Mentre la pasta frolla riposa.